Oggi vi presento l'albo illustrato La trappola perfetta di Gilles Bon e Mathieu Moudet, edito da Pulce Edizioni. Non hai un amico speciale? Allora prendi questo libro. Leggiamone un pezzettino insieme. La trappola perfetta. Non hai nemmeno un amico speciale? Prendi questo libro e cattura un animale. Trappola con formaggino per il topino. Trappola ratto per il gatto. Trappola nastro. Oh che disastro! Insomma dovete proprio vedere queste bellissime immagini e leggere questa simpatica storia. Il libro è La trappola perfetta di Gilles Bon e Mathieu Moudet, edito da Pulce Edizioni.